4 ottobre. Oggi vogliamo parlarvi di quella che è stata la grande straordinaria vita francescana di Padre Pio. Padre Pio figlio autentico di Francesco e soprattutto di Madonna Povertà. Infatti sono i suoi confratelli che ci raccontano, a partire dai superiori provinciali come ad esempio Padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia Pianisi che a San Giovanni Rotondo qui ha ricoperto anche il ruolo di guardiano della fraternità per diversi anni. Ha osservato che Padre Pio riguardo alla povertà fu sempre fedele al voto professato in tutto. Amava la semplicità delle cose e racconta ancora che quante volte rimproverava anche il lusso, le spese superflue. Non ha mai mostrato alcun attaccamento o aspirazione alle cose del mondo, ha raccontato Padre Raffaele D'Addario. Poi un altro frate, Padre Rosario da Liminusa che è stato anche superiore di questo convento, ha raccontato che Padre Pio fu un frate veramente povero, distaccato da tutto. Padre Onorato Marcucci che scrive nelle sue memorie Padre Pio consumava vestiti e sandali fino all'ultima possibilità. Ogni volta che poi bisognava cambiare abito, Padre Pio diceva ma questo invece era ancora buono perché dobbiamo cambiare abito e poi terminiamo con Padre Amedeo Fabrocini che fu anche padre provinciale di Padre Pio. Quindi possiamo immaginare nei primi anni soprattutto accadeva questo, questo fanatismo nei confronti di Padre Pio fino anche a tagliarvi il suo abito quando lui passava e attraversava anche i corridoi del convento. Lui nonostante tutto questo desiderava continuare a portare questo tipo di abiti sempre rattoppati anche se erano stagliuzzati per questa eccessiva devozione da parte dei pellegrini, dei fedeli, dei figli spirituali che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. Gli dicevano i confratelli ma padre devi cambiare l'abito perché tu così non puoi continuare ad andare girando perché il tuo abito è quasi tutto stagliuzzato, tutto strappato, quasi ricucito e lui poi accettando questo abito nuovo a malincuore quando lo stava per indossare diceva ma San Francesco che cosa penserà di tutto questo.